Il 6 maggio si avvicina e Londra è in fermento, in questi giorni la scena alla roub, la chiscia dell'incoronazione, una ricetta scelta personalmente da Carlo III e dalla regina consorte Camilla. Il piatto è in realtà una torta salata francese, rivisitata con spinaci, fave e dragoncello, viene presentato nelle centinaia di pranzi ed eventi programmati in tutto il paese per celebrare il nuovo re. Tutta la royal femmine è coinvolta in questa operazione simpatia. Il principe Edoardo, duca di Edimburgo, ha portato la chiscia ad un grande pranzo dell'incoronazione, cui partecipava anche l'arcivescovo di Canterbury e la nota chef Prue Leif. Penso che il cibo, ha dichiarato la star televisiva, possa giocare un ruolo molto importante, anche il bere ovviamente, a chi non piacciono le feste. Noi stiamo affinando la tecnica, sono abbastanza grande da ricordare il giubileo d'argento di Elisabetta e c'erano alcuni eventi, ma ora sono ovunque ed è fantastico. La chiscia è la versione 2023 del pollo dell'incoronazione, un piatto a base di carne lissata, curry e maionese, inventato nel 1953 per l'incoronazione della regina, apprezzato ancora oggi nel Regno Unito. Grazie. Grazie.